Febbo, oggi in conferenza stampa il capigruppo della maggioranza hanno tenuto a ribadire quello che è stato fatto anche nella giornata di ieri in consiglio, ma anche negli ultimi mesi, cura Abruzzo 1, cura Abruzzo 2, tanti soldi per i cittadini abruzzesi nel momento della pandemia. Sì, risposte per quel che possiamo dare per una regione che chiaramente a differenza del governo nazionale non può agire in deficit, mentre il governo può agire. Abbiamo messo in gambo tutto perché abbiamo rinegoziato tutto ciò che era da rinegoziare, fondi nazionali, fondi europei, masterplan, quindi abbiamo rinegoziato tutto così come peraltro il governo ci aveva chiesto. Insomma, a oggi abbiamo fatto cura Abruzzo 1 e cura Abruzzo 2, immesso nell'economia regionale qualcosa come 100 milioni di euro, ma ne arriveranno tanti altri per un sistema economico che ha necessità di mantenersi e soprattutto dobbiamo cercare di mantenerlo intatto perché dobbiamo pensare che dopo la peste c'è il risorgimento, come scriveva Dante, e quindi dobbiamo pensare anche al futuro. Lei in conferenza stampa Testa ha sottolineato che in questo momento non dovrebbero esserci polemiche. Io non appartengo a quelli che vanno dietro le polemiche, io voglio vedere e lavorare ogni giorno per il futuro dell'Abruzzo, ieri è stata una giornata realizzativa e importante, abbiamo destinato ulteriori milioni per le imprese, per il mondo del sociale, per il mondo delle infrastrutture, pensiamo agli 800 mila euro per l'aeroporto d'Abruzzo, pensiamo ai 190 mila euro per il centro di urni di Teramo e l'Aquila, pensiamo ai 6 milioni di euro per le imprese, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per le domande a fondo perduto, pensiamo ai 700 mila euro stanziati per la categoria dei fotografi, una categoria che è stata abbandonata totalmente dal governo nazionale. Sant'Angelo, voi oggi in conferenza stampa avete ribadito la bontà del lavoro portato avanti dalla maggioranza della giunta regionale, anche per quanto riguarda l'operazione Napoli Calcio quest'estate a Castel di Sangue. Beh, allora, il Napoli Calcio rientra in un'operazione di marketing e di valorizzazione del territorio, considerare il territorio dell'Alto Sangue è un territorio che vive prettamente d'inverno, abbiamo fatto un'inversione di turismo, che c'è stato anche un forte turismo per la stagionalità estiva, diciamo è un'azione di marketing, il Napoli su tutte le testate giornalistiche sportive risulta essere la quinta squadra italiana con milioni di tifosi, quindi dare questo contributo, questa pubblicità attraverso il Napoli Calcio secondo me è un investimento che ci proietta per il futuro, non per l'oggi, per una dimensione di internalizzazione della nostra regione. Quindi se da un lato con il fondo perduto, che abbiamo anche lì implementato fino a 50 milioni di euro e daremo ristoro a 34 mila aziende abruzzesi, da un lato sosteniamo il reddito, dall'altro stiamo programmando anche lo sviluppo per rispondere in prospettiva futura a questa crisi economica.